Buongiorno a tutti e benvenuti su Flash Trend Ita, il vostro canale di riferimento per tutte le notizie che fanno tendenza. Oggi abbiamo una puntata particolarmente sentita e delicata, dedicata a una delle coppie più amate e discusse del panorama italiano, di Ferragnez. Recentemente, dei cambiamenti nelle abitudini social di Chiara Ferragne e Fedez hanno scatenato molte speculazioni. Restate con noi per scoprire insieme cosa sta accadendo. In questo ultimo periodo, il mondo dei social media si è trovato a fronteggiare una questione tanto delicata quanto significativa, catalizzata dalla storia di Chiara Ferragni e Fedez, due tra le personalità più influenti dello spazio digitale italiano. Il fulcro di questa vicenda ruota attorno a una scelta apparentemente semplice ma profondamente carica di significato, l'omissione dei volti dei loro bambini, Leone e Vittoria, dalle recenti pubblicazioni sui loro profili social. Questa modifica ha acceso i riflettori su di loro, generando un vortice di speculazioni e dibattiti. La prima domanda che sorge spontanea è «perché ora?». Chiara e Fedez hanno sempre condiviso con il mondo momenti intimi e personali della loro vita familiare, dalla nascita dei loro figli ai primi passi, dai compleanni ai momenti quotidiani di gioia e stanchezza. La loro scelta di cambiare rotta non può essere stata presa alla leggera. Analizzando le dinamiche sociali e legali che influenzano le famiglie nel mondo digitale emerge un quadro complesso. La legge italiana, così come le normative internazionali sulla privacy, impone restrizioni severe sulla condivisione di immagini di minori, richiedendo il consenso di entrambi i genitori. Questa prudenza legale si scontra con la natura aperta e spesso indiscriminata dei social media, dove la vita privata diventa pubblica con un semplice clic. La decisione dei Ferragnez di mostrare i loro figli solo di spalle o in modo non identificabile potrebbe essere interpretata come una risposta consapevole a queste pressioni legali e sociali, un tentativo di proteggere la privacy e l'infanzia dei loro figli in un periodo di crescente scrutino pubblico e potenziale conflitto legale. Tuttavia questa scelta non è stata esente da critiche. Alcuni follower hanno espresso delusione e confusione, lamentando la perdita di un elemento chiave che aveva caratterizzato fino a ora la narrazione pubblica dei Ferragnez. Altri, invece, hanno elogiato la coppia per aver preso una posizione più protettiva nei confronti della privacy dei loro bambini, riconoscendo le complesse sfide che emergono quando la vita familiare si intreccia con la sfera pubblica. Oltre alla questione immediata della privacy, questo cambiamento solleva interrogativi più ampi sul ruolo dei social media nella nostra società e sulle responsabilità dei genitori influencer. In un'epoca in cui ogni momento può essere catturato, condiviso e commentato, quale posto rimane per l'autenticità, la privacy e soprattutto per il benessere dei minori coinvolti? Questi dilemmi riflettono tensioni più vaste tra il diritto alla privacy, il desiderio di condivisione e le aspettative del pubblico, sottolineando la necessità di un dialogo continuo e di una riflessione critica su come navigare questi spazi coniugando apertura e riservatezza. In conclusione, mentre la storia dei Ferragnez continua a evolversi, rimane evidente l'importanza del dialogo e della riflessione su come la nostra società affronta la privacy online, specialmente quella dei più piccoli. Grazie per averci seguito in questa analisi dedicata a un argomento tanto delicato quanto attuale. Ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti. Un saluto da Flash Trend Ita e a presto con nuove tendenze e notizie. Ciao a tutti!